Buonasera ai telespettatori di Rossini TV per questo quarto appuntamento con Estra Prometeo. Questa volta andiamo a conoscere chi ha il rapporto diretto con i clienti. Siamo in studio con Simona Olivetti e Diletta Carnaroli, alle quali chiediamo qual è il loro ruolo in Estra Prometeo. Una breve presentazione e poi entriamo nel dettaglio della loro attività. Buonasera Simona, buonasera Diletta, iniziamo con Simona. Allora, buonasera, io sono Simona, lavoro da tre anni nello staff di Paolo. Sono la responsabile del punto Estra di Vallefoglia. Vengo da un'esperienza comunque quindicennale come libera professionista nel mondo della progettazione riferita ai fondi europei, soprattutto e anche nei settori dell'energia e dell'ambiente. Ma in realtà quello che mi sta servendo di più in questa esperienza nel pubblico è la mia formazione da formatrice. Sono laureata in scienza della formazione, quindi sono tutti gli effetti una formatrice. devo dire che nel rapporto quotidiano col pubblico, nel rapporto con la clientela, che sia normalmente dentro dello sportello per l'energia, con tutti i problemi che ci sono in questo momento, con tutte le situazioni, insomma, le cose che succedono in questo momento di un grosso cambiamento di questo mercato, devo dire che il saper ascoltare i clienti, il saper capire quelli che sono i loro problemi, saperli spiegare, come poterli risolvere, saper comunque risolvere i loro problemi per quello che si può fare è comunque una delle competenze migliori che posso usare, diciamo, in questa professione. Entreremo nel dettaglio, ma innanzitutto la prima domanda è qual è stata l'intuizione alla base dell'apertura di un punto a Vallefoglia? Vallefoglia è il terzo comune della provincia di Pesaro e di conseguenza è un'area particolarmente grande, dimensionalmente parlando, spesso lasciato un pochino in secondo piano rispetto all'asse costiero Pesaro-Fano in termini di servizi e soprattutto, come accennavo prima, in un momento così delicato di cambiamento del mercato dell'energia è importante, secondo noi, essere presenti comunque fisicamente sul territorio ed è importante soprattutto in quei territori come Vallefoglia dove in questo momento sta aumentando la popolazione sia più anziana che quella straniera che più di altre si trova in difficoltà a poi utilizzare col center o comunque altri strumenti che permettono l'accesso al mercato dell'energia o comunque hanno una particolare confusione nei confronti di tutti i cambiamenti di questo mercato. fondamentalmente fino adesso nessuno si è dovuto preoccupare delle bollette tanto arrivavano sempre dallo stesso operatore, si sapeva, era come una tassa e li finiva. Adesso le tante scelte, il fatto che vengano continuamente tartassati da telefonate, tutto quello che sta succedendo in questo momento sul settore nostro, sul settore dell'energia, comunque impone secondo noi di essere presenti il più possibile soprattutto in quei territori un pochino più strategici dove appunto sono più presenti determinati i target di popolazione e poi comunque è anche vero che sostanzialmente tutti hanno bisogno e questo l'ho notato proprio nell'esperienza diretta di potersi fidare e affidare a qualcuno che sappia in qualche modo spiegare al meglio le problematiche che ci sono nel settore che sappia dare le proposte migliori anche perché in questo momento non conoscere certi passaggi significa buttarvi i soldi, sostanzialmente non è certo questo il momento migliore per farlo e comunque sia il poter dare fiducia soprattutto a, si chiamano clienti ma in realtà sono le persone che entrano poi sostanzialmente dentro il nostro ufficio sono persone come me di cui io sono solo un'interfaccia con un mondo su cui ho semplicemente qualche competenza in più e posso dargli qualche consiglio in più è importante insomma e diciamo che questa scelta tra l'altro è stata premiata perché comunque sia il flusso e spero la fiducia insomma ce ne sono parecchie così mi stanno dimostrando le persone che entrano appunto e cosa caratterizza in particolare il vostro servizio e qual è il suo valore aggiunto? allora come accennavo il fatto, la caratteristica principale secondo me è proprio il fatto che chi entra da noi è una persona, non è un cliente è qualcuno che ha un problema, che ha un dubbio che vuole avere delle informazioni aggiuntive che comunque non nasce imparato sul mondo dell'energia e su tutti i cambiamenti che stanno succedendo in questo momento e che quindi ha bisogno di trovarsi di fronte qualcuno che capisca, interpreti spesso qual è il suo problema e che sappia dargli la soluzione migliore fondamentalmente che poi il problema sia una questione di risparmio, di tariffa di perché paga molto, perché paga poco o perché ha problematiche proprio tecniche nei confronti dell'utenza o quant'altro noi siamo sempre a disposizione ci mettiamo insomma tutto quello che possiamo a me è quello che mi piace dire che è un mercato così complesso che io non posso mai garantire che non ci siano problemi quello che posso garantire è che tutti i problemi che ci sono io sono lì per risolverli e metterò tutto insomma quello che so fare, quello che posso per risolverli e fondamentalmente è un po' questo il plus valore cioè il fatto proprio che al di là di quello che dicono tutti i nostri valori sono la competenza, la qualità del servizio eccetera eccetera fondamentalmente noi cerchiamo di concretizzarlo ogni giorno in gesti, che siano sorrisi appena entra il cliente o siano gesti di attenzione, di ascolto di interpretazione di quelle che sono le esigenze della persona appunto che entra perché è una persona e così viene assolutamente trattata sempre io mi conosco normalmente, sono la persona meno formale dell'universo credo però insomma tutto quello che posso fare credo che proprio sia questo il mio ruolo e il senso del lavoro che sto facendo quello di poter fare proprio da interprete su un settore particolarmente difficile particolarmente complesso soprattutto per certi clienti certe persone poi appunto ed è lo senso del mio lavoro è appunto quello di poter mettermi a servizio, a disposizione completamente per poter risolvere le loro problematiche di qualsiasi tipo siano è estra, ma ne dà la possibilità insomma con tutti i servizi che mette a disposizione eccetera e dopo aver spiegato tutto quanto manca solo il dettaglio dove siete? esatto, allora siamo in via Roma via Roma 2412 sulla strada principale la strada vecchia che da Pesaro va a Urbino praticamente di fronte all'ufficio postale di Montecchio c'è quello che lì viene chiamato centro commerciale a ferro di cavallo che abita a Montecchio sa a cosa mi riferisco e noi siamo proprio lì al primo piano ben visibili insomma e accessibili per qualsiasi tipo di problema ecco una sede immagino accogliente assolutamente perfettamente in linea con tutto quello che abbiamo detto fino adesso assolutamente, sicuramente il sorriso ce l'hanno tutti assicurato adesso al di là delle mascherine dell'ultimo periodo però insomma ci hanno tutti assicurato comunque sia un'accoglienza, un ascolto approfondito insomma dei loro problemi e quanto possibile cerchiamo di fare fare tutto quello che possiamo per risolverlo insomma come immagino sia la sede invece presidiata da Diletta Carnaroli che invece è a Pesaro giusto? io sono lo store manager dello sportello di Pesaro in via Marsala 20 e io rispetto a Simona faccio parte di questo team da meno tempo solo dall'anno scorso però mi sono inserita subito benissimo e i miei colleghi sono stati bravissimi insomma a farmi sentire a casa e oltre ad occuparmi di tutto ciò che concerne l'amministrazione così come anche il lavoro di front-end come sportellista ho anche un secondo ruolo all'interno dello store di Pesaro che è quello di responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni infatti se siamo qua oggi un pochino mi prendo anche il merito perché diciamo che anche io ho spinto su questa direzione per farci conoscere e per far conoscere la nostra realtà e sicuramente forse questo ruolo di responsabile della comunicazione lo considero tra i due il più importante perché considero la comunicazione in senso lato molto spesso alcuni clienti quando gli dico che sono la responsabile della comunicazione mi dicono ah ma allora sei tu quella che mi manda quelle e-mail quei messaggi quelle offerte eccetera sì sono io però non faccio solo quello in quanto responsabile della comunicazione perché il mio obiettivo non è solo comunicare al cliente ma anche permettere al cliente di comunicare con me quindi la mia comunicazione non è unidirezionale io comunico al cliente una cosa e poi mi rendo irrintracciabile ma la mia comunicazione vuole essere bidirezionale quindi rendermi anche disponibile per fare in modo che il cliente se ha bisogno di me mi può trovare in qualsiasi modo e attraverso diversi mezzi che gli metto a disposizione insomma alla luce di quanto abbiamo detto il momento storico sembra fatto apposta per fare la domanda successiva quanto è importante questo contatto diretto e quanto lo è stato in questo momento molto speciale che tutta l'umanità ha vissuto e in particolare il nostro territorio ovviamente dunque io durante il periodo di piena emergenza non ricordo di essermi fermata neanche un giorno cioè anche quando siamo stati costretti a chiudere il negozio al pubblico e non poter più avere quel rapporto diretto col cliente che fa parte proprio del nostro lavoro noi ci siamo immediatamente reinventati abbiamo reinventato il nostro lavoro abbiamo cercato di essere utili per il cliente come al solito conscio ovviamente che quella che andavamo a costruire sarebbe stata una nuova normalità per cui ecco di fronte all'impossibilità di poter assistere il cliente nei modi tradizionali abbiamo deciso di mettergli a disposizione tutta una serie di mezzi diciamo non convenzionali per quello che è la nostra categoria merceologica e in questo senso appunto la tecnologia ci è venuta incontro le principali piattaforme di social network come Facebook e Instagram fino ad arrivare alle app di messaggistica come Whatsapp siamo stati in grado di mantenere un contatto diretto con i nostri clienti anche durante un periodo di estrema difficoltà e grazie a questi strumenti siamo riusciti a tenere aggiornato il nostro cliente su quelle che erano le utenze su quelle che erano le forniture sul rassicurarlo su un distacco della luce magari sul concedergli una rateizzazione nel caso di bisogno e lo abbiamo anche informato su tutte quelle che sono state le iniziative che come Estra Prometeo abbiamo preso appunto per venire incontro ai nostri clienti in questo momento di particolari difficoltà tra cui anche difficoltà economica per cui ecco abbiamo studiato proprio un modo per mantenere un contatto diretto con ogni tipologia di cliente Nell'utilizzo di questi strumenti alternativi a quella che è la presenza del cliente di persona avete trovato delle difficoltà avete trovato dei vantaggi continuerete ad utilizzare questi strumenti oppure è una parentesi che in qualche modo preferite chiudere? Non è assolutamente una parentesi tant'è vero che noi utilizzavamo questi questi mezzi per comunicare con il cliente anche prima dell'emergenza quindi l'emergenza non è stata non è stato il motivo per cui abbiamo incominciato a farlo ma era già un percorso iniziato prima unica differenza è che prima il nostro bacino di utenza era molto ridotto gli unici clienti con cui avevamo un rapporto a distanza erano quelli un po' più giovani quelli un po' più smart e un po' più social con la pandemia anche i meno giovani per necessità hanno dovuto per forza di cose approcciarsi a degli strumenti nuovi anche per loro perché per esigenza appunto sono rimasti senza vedere i figli senza vedere i parenti per due mesi e hanno dovuto per forza imparare ad utilizzare uno strumento come Whatsapp per esempio con la pandemia il nostro bacino di utenza relativamente all'utilizzo di questi canali è aumentato enormemente perché siamo riusciti a raggiungere anche tutta una certa una clientela che prima non utilizzava questi strumenti e che tipo di richieste arrivano da questi canali noi forniamo assistenza a 360 gradi c'è chi ci manda la foto del contatore del gas per comunicarci l'autolettura c'è chi ci chiede una rateizzazione o una dilazione di pagamento c'è chi magari arrivando alla bolletta ci contatta per avere delle lucidazioni in merito appunto alla bolletta perché magari c'è qualche voce che non gli è chiara utilizziamo questo mezzo anche per completare un'azione o una pratica che è stata iniziata in negozio mi spiego meglio magari una persona un cliente viene a fare un allaccio del gas in negozio vuole pagare tramite domiciliazione bancaria ma si rende conto in negozio di non essersi portato dietro l'Iban magari utilizza appunto lo strumento Whatsapp per inviarci l'Iban piuttosto che tornare in negozio e perdere inutilmente tempo c'è anche chi tramite questo strumento decide di stipulare un vero e proprio contratto quindi un vero e proprio contratto da remoto infatti abbiamo tutta una serie di clienti ormai fidelizzati ormai vicini a noi che ci conoscono da tantissimo tempo e sanno che di noi possono fidarci che proprio perché con noi si sono trovati bene ci passano anche i contatti dei loro figli dei loro nipoti appunto per farli passare ad Estra Prometeo proprio perché loro hanno notato dei vantaggi hanno notato dei risparmi noi entriamo in contatto con questi potenziali clienti e a volte alcuni non sono nemmeno della regione Marche c'è magari chi ha la seconda casa a Pesaro ma magari abita a Milano per cui decidono appunto di affidarsi a noi e noi gli inviamo il contratto tramite email o tramite messaggio loro ce lo rimandano firmato e per noi il contratto è concluso si può dire che Whatsapp è la novità la vera novità rispetto a quello che poteva essere un utilizzo in remoto di tutti gli altri strumenti? Assolutamente sì perché noi abbiamo riscontrato tantissimi benefici dall'utilizzo di questa applicazione di messaggistica benefici innanzitutto perché non possiamo considerarci ancora fuori dallo stato di emergenza per cui il fatto di poter risolvere certe problematiche da remoto ci permette anche di non creare assembramenti in negozio e d'altra parte riusciamo anche noi a organizzare meglio il nostro lavoro perché riusciamo a dedicare più tempo e più attenzione alle attività di back office e riusciamo soprattutto a dare tutte le attenzioni possibili a qualsiasi tipo legge di cliente mi spiego meglio con l'utilizzo di questi mezzi di comunicazione noi riusciamo a rendere più contento sia quel signore che prima doveva farsi mezz'ora di fila allo sportello solo per comunicarci l'autolettura e riusciamo a rendere più contento anche colui che ha bisogno realmente di interfacciarsi con lo sportellista perché magari ha un problema un po' più particolare un po' più complesso per cui ha bisogno realmente di interfacciarsi con noi avendo meno traffico in negozio proprio perché riusciamo a risolvere da remoto alcune pratiche minori riusciamo anche a dedicare più tempo a chi è realmente bisogno di noi penso per esempio a chi ci chiede di fare un allaccio del gas o della luce di allacciare proprio un nuovo contatore e queste sono pratiche abbastanza complesse e anche abbastanza lunghe per cui dobbiamo dedicarci particolare attenzione e particolare tempo si dice che da ogni esperienza si debba uscire con qualche insegnamento e soprattutto con un progetto su quello che succederà dopo quali sono i passi successivi? come dicevo sicuramente questo era un processo che noi avevamo iniziato ancora prima dell'emergenza coronavirus grazie all'emergenza o a causa dell'emergenza coronavirus abbiamo dato un'accelerata a questo processo che avevamo già iniziato e la nostra intenzione è quello di portarlo avanti è quello di portare avanti l'idea di un cliente smart e di un cliente social proprio per dare un beneficio al cliente stesso quanto a rendere più efficiente il nostro lavoro e proprio per incentivare i nostri clienti ad utilizzare mezzi di comunicazione non convenzionale per il nostro lavoro abbiamo preso una serie di iniziative la più importante è la creazione di una campagna premi che abbiamo già avviato da un paio di mesi abbiamo deciso una volta al mese di estrarre tra i nostri clienti Estra Prometeo un fortunato che riceverà in regalo uno dei nostri prodotti smart living requisiti per partecipare alla estrazione sono l'aver fatto un contratto di luce o gas l'aver stipulato un contratto di luce o gas nello sportello di Pesaro o di Vallefoglia e quello di aver messo mi piace alla nostra pagina Facebook siamo partiti ormai con l'estrazione a premi già da un paio di mesi e abbiamo già postato sui nostri social la foto dei vincitori rigorosamente con mascherina e per fine anno abbiamo intenzione di regalare al fortunato per l'estrazione di dicembre un premio speciale che è un e-bike una city bike targata Atala quindi un bellissimo regalo probabilmente faremo anche un piccolo rinfresco anche in occasione dell'inaugurazione del negozio che è appunto aperto a dicembre 2019 probabilmente per festeggiare un anno di apertura a dicembre 2020 faremo ecco una piccola festa dove ci sarà anche la premiazione e l'estrazione del fortunato che vincerà la city bike allora vediamo se ho capito Estrometeo sposta l'attenzione dal prodotto al cliente apre dei punti nei quali ricevere il cliente ma in quei punti poi si attiva anche per interroguire col cliente attraverso gli strumenti social con la consapevolezza però che dall'altra parte c'è qualcuno che si può andare a raggiungere con cui si può parlare ho capito tutto? esattamente sono contento perché ho ascoltato con molta attenzione oggi siamo stati con Simona e con Diletta abbiamo ascoltato e a questo punto immagino che anche i telespettatori di Rossini TV si è venuta una gran voglia di andarle a conoscere di persona nei punti vendita di Vallefoglia e nel punto di Pesaro nei quali conosceremo ancora più in dettaglio quelli che sono i prodotti che comunque sono stati già illustrati nei precedenti incontri con Estra Prometeo ringraziamo tutti i telespettatori di Rossini TV vi diamo appuntamento con altre occasioni nelle quali approfondiremo probabilmente altri punti chiave di questa offerta di questa proposta grazie a tutti e restate in visione dei programmi di Rossini TV chiamaci al numero 0721 149 00 05 vieni a trovarci nei nostri store in Viale Marsala 20 a Pesaro e in Viale Roma 24 a Vallefoglia a Pesaro a Pesaro a Pesaro a Pesaro a Pesaro a Pesaro